Allora Mau guarda, ho fatto questo ponte qui per non andare a rovinare un po' il morsetto, questo con questo faceva male contatto perché tenendolo premuto il pulsante e andando a smanettare il filo sentivo il motorino del vetro che andava a intermittenza. Ho fatto la prova col ponte messo così e ha smesso di fare intermittenza. Ora lo lascio in questo modo, vedo di fissarlo per bene dove non dà noia, in modo che a portata di mano perché lascio un culo, ho tirato delle bestemmie che la metà bastavano e a regola ora dovrei aver risolto il problema intermittenza dei finestrini. Ora devo risolvere solamente il problema di scorrimento del finestrino perché scorre vento, devo capire perché, quindi già che ci sono smonterò anche le portiere. Ora rimonto tutta la parte elettrica qui sotto e vedo un po' come risolvere il discorso dei finestrini.